Quali sono state le emozioni durante la finale? Le emozioni della finale sono state tante. All'inizio sembrava una storia già vista, come in altre partite. E io personalmente mi sono un attimo spaventata, ma sapevo dentro di me, come credo tutte loro, che la Coppa la potevamo alzare solo noi. Decisivo il gol in finale di Grumelli. Cosa si prova a segnare in finale? Uno dei gol più brutti, penso, mai segnati in una finale. Comunque le emozioni sono sicuramente forti e tutto merito del gruppo e della voglia di vincere. Qual è stato invece il gol più emozionante di tutti? Il terzo gol in semifinale con la Toscana, che ha sancito il nostro accesso alla finale, è stato il gol conclusivo di una rimonta, visto che eravamo pure sotto 2-1.